ciao a tutti e benvenuti sul mio canale finalmente sono arrivati quei fantomatici marker che stavo aspettando dietro la confezione possiamo notare le caratteristiche di questi pennarelli hanno un'asciugatura rapida sono a base d'alcol sono resistenti all'acqua non sono tossici sono a prova di striscia e sono resistenti allo sbiadimento questo è un set di 12 colori hanno la doppia punta da un lato hanno la punta pennello e dall'altro lato c'è l'ampia punta sagomata ma ora prima di iniziare a disegnare dobbiamo prima provarli dopo questa prima prova posso dirvi che i colori risultano belli vivaci ma qui ragazzi ci vuole veramente un grandissimo applauso per il brand parkour i colori rispettano il pack esterno lasciate nei commenti le emoji dell'applauso nella descrizione del video trovate il link del loro sito così potrete dare un'occhiata ai loro materiali questa volta ho realizzato un'illustrazione su un unico foglio ed ho utilizzato un classico foglio da stampante una volta terminato lo sketch di base con la mia solita matita da precisione vado a rifinire i dettagli di questo figurino approfittando dei look dell'evento del festival del film di venezia ho disegnato leoni con quest'abito molto bello di milla terminati i dettagli procedo con la colorazione per colorare la pelle utilizzato il set skin degli hu hu markers ho combinato diverse tonalità per avere un effetto più realistico se vi interessa questo set per la pelle ho fatto un video a riguardo vi lascio qui sopra il link terminata la stesura con il colore di base ho preso un'altra tonalità più scura e ho iniziato a posizionare le prime ombre ho continuato allo stesso modo con le altre tonalità se in caso vi potrebbe interessare un video specifico sulla colorazione con i markers e come sfumarli bene tra loro fatemelo sapere qui sotto tramite un commento fatemelo sapere qui sotto tramite un commento è arrivato finalmente il momento di utilizzare questi pennarelli fatemelo sapere qui sotto tramite un commento ho aspettato che si asciugasse il colore e con la stessa tonalità sono riuscita a creare delle ombre ripassandoci sopra il colore essendo un set di 12 markers purtroppo non avendo a disposizione molti colori per fare alcune ombre mi sono aiutata con gli markers a mio parere questi pennarelli della parkour sono un'ottima alternativa ai pennarelli di brand più costosi e rispetto ad altri markers meno cari i colori corrispondono a al pack esterno. Ve li consiglio assolutamente perché sono degli ottimi pennarelli ed hanno un costo molto basso. Bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!